Ho il piacere e anche l'onore, sento di dire così, di condividere un po' di musica stasera anche con i miei colleghi. Facciamo sempre tutti parte della scuola chitarristica, della grande scuola chitarristica di Bari, grazie a Linda Cazzolaro ovviamente. E vorrei presentarvi per primo Giuseppe Maria Ficara. Prego. Abbiamo Sante Torsi. Armando De Codugno. Leonardo Lo Spalluti. Umberto Caffagna. Questi sono questi colleghi, uno dei grandi musicisti. Sempre dal repportorio se lo piano scriviamo di Jacqueline Malaz, primissimo 900, serenata, spagnola. Sempre un pialleggiamento per l'orchestra di Faria. 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 Pagli несколькоimetri, un pialleggiamento per l'orchestra di Faria per la base. Un pialleggiamento per il suo Kid. Un pialleggiamento per il Quốc Un pialleggiamento per l'orchestra di Faria per la base. Un pialleggiamento per il Grade. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.